Gesù è l'Avvocato nostro presso il Padre, il quale nella gloria celeste mostra del continuo, per così dire, le sue ferite al Padre, perché è dalle sue ferite infatti che fluisce il suo amore misericordioso, è l'amore che salva. Per questo soltanto per Cristo e in Cristo è posta la nostra speranza e la nostra fiducia. Nel suo corpo martoriato, nel corpo martoriato di Gesù Cristo, abbiamo la certezza del suo infinito amore. Il Padre ci ha dato un segno inequivocabile del suo amore verso di noi, per il quale non possiamo affatto dubitare. Rendiamo dunque grazie al Signore, nostro Dio e a Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro intercessore e nostro Signore, nel quale speriamo e riposiamo, il quale ci ha donato il suo Spirito che dimora in noi e ci sostiene giorno dopo giorno. La nostra speranza è il regno promesso verso il quale in questo pellegrinaggio terreno siamo avviati per godere per sempre della sua gloria senza fine.